Voglio tornare, questa è la voce di Teresa Di Sio e sulle note di questa canzone torniamo appunto con Primo Spettacolo, l'ultima parte di Primo Spettacolo e come già annunciato dando proprio il benvenuto e il bentornato anzi a Teresa Di Sio qui nei nostri studio. Ciao, ciao a tutti, ciao, bentrovata. In veste di scrittrice, il suo nuovo romanzo, un romanzo intitolato L'Attentissima, insomma la scrittura è diventato ormai un elemento importante nella vita di Teresa Di Sio. Sì, la scrittura è diventata, e ne sono molto felice, non soltanto abbastanza fiera di essere, di aver preso questa strada ma anche abbastanza felice perché è una condizione diciamo creativa, emotiva, anche psicologica abbastanza differente da quella della musica, quindi mi bilancia molto, mi acquieta molto diciamo almeno così per finta, mi acquieta molto, ma in realtà ribolle molta roba insomma diciamo dentro di me e quindi mi sono molto felice di poter dire che adesso insieme a una musicista e una cantante a casa mia abita anche una scrittrice. Che pubblica per Einaudi tra l'altro. Esatto, è il secondo romanzo che pubblica con Einaudi, L'Attentissima e si apre con un'elegia all'organo sessuale femminile. Dopo queste prime due pagine che cosa si dovrebbe aspettare un lettore? Tra l'altro in punta di penna, con grande ironia, con grande insomma... Beh, questo è un romanzo, si potrebbe definire un romanzo di formazione, è un romanzo di trasformazione ed è un romanzo di redenzione anche. Vengono raccontate in questo romanzo delle storie parallele. In una narrazione osserviamo, seguiamo le vicende di un adolescente un po' speciale, un po' diverso dagli altri che vive in un quartiere di Somma Vesuviana alla fine degli anni 90 e ne seguiamo la vita, così diciamo, di provincia, la vita che può avere un adolescente, un sedicenne, diciasettenne... In un luogo come quello. In un luogo come quello, in cui entra in rotta di collisione sia con tutte le cose che stanno in un luogo come quello, dalla scuola agli studi, alle amicizie, alle canne, in questo libro ce ne sono moltissime, e però questo adolescente sente di essere non del tutto uguale, uguale, uguale ai propri compagni di scuola che sono peraltro raccontati molto dettagliatamente nel romanzo, ma sente che esiste per lui una strada che lo porterà probabilmente molto lontano, come peraltro, devo dire, capita a molti di noi che nasciamo in un posto e pensiamo che tutto, che il nostro destino, si compirà in quel posto. Poi invece, da un'altra parte, sentiamo che dovremmo abbandonare quel luogo. Quel presente ci sta un po' stretto, forse. Sì, che quel presente, che quel luogo ci stanno stretti e che quindi si va ad essere fino in fondo se stessi da un'altra parte. Ed è questo il racconto proprio di come una personalità ricca, variegata, che aspira ad uscire anche fuori dal proprio sé e a diventare completamente altro da sé, riesce a farlo secondo un percorso di trasformazione. Io volevo scrivere un libro sulle trasformazioni che tutti dobbiamo compiere per arrivare ad essere ciò che siamo. Trasformazioni anche fisiche, in questo caso. Anche in questo caso, anche fisiche. Per arrivare ad essere ciò che vogliamo essere fino in fondo e non ciò che gli altri vogliono che noi siamo, spesso nella vita, indipendentemente dal percorso specialissimo e particolarissimo del personaggio protagonista del mio libro, ma ognuno a modo suo, nel suo campo, deve mettere in atto, subire, aspirare a delle trasformazioni. Per fare questo io ho scelto di raccontare una trasformazione che è simbolica forse di tutte le altre, ma è certamente la più estrema, perché è una trasformazione di genere sessuale. Quindi il romanzo è attraversato da un personaggio che adesso non diremo quale dei tanti personaggi che sono raccontati nel libro si trasforma in altro. Sappiamo che però a un certo punto incontreremo una bellissima ragazza spregiudicata, bionda, che vive a Roma e che è anche un personaggio molto positivo perché è padrone totalmente della propria vita. Parliamo di Carmen. Carmen e Domenico sono due personaggi che in realtà sono un po' gli antipoti da un punto di vista di estrazione sociale, di città dove vivono, che però hanno in comune che cosa? Beh, hanno in comune la voglia di... diciamo di esprimere sempre un'opinione sul mondo e non a caso il romanzo si intitola L'attentissima perché penso che poi alla fine bisogna alzare sempre il livello di attenzione sulle cose per poterle, non dico governare o dominare, ma almeno per non rimanerne schiacciati. Quindi per riuscire a costruire fino in fondo il proprio destino bisogna diventare sempre di più attentissimi e sia Carmen che Domenico hanno questa voglia, questa voglia di essere, di avere una diversità intellettuale che se ci pensate è la diversità più difficile di cui parlare perché si parla sempre di diversità di razza, di religione, di lingua, di colore della pelle, anche di sesso, ma quasi mai si parla comunque con difficoltà delle diversità intellettuali. Sono quelle meno evidenti, no? Sono quelle meno evidenti, ma probabilmente sono quelle che spingono con più forza dentro le faccende del mondo e che sono le uniche in grado di cambiarlo poi il mondo. E un romanzo di formazione, così come in qualche modo era un romanzo di formazione anche il tuo romanzo precedente, Metti il diavolo a ballare, che aveva per protagonista una giovane vita in formazione, insomma come mai i giovani ti interessano così tanto dal punto di vista della scrittura dei romanzi? Ma più che i giovani mi interessano i punti critici della vita. Per adesso io come punto critico conosco quello in cui si passa dalla adolescenza... Lo è per tutti quello, è un momento critico. Quello per tutti, insomma. Però ancora non conosciamo, penso nessuno qui di noi conosce ancora quell'altro, quello che passa poi diciamo dalla giovanezza alla vecchiaio, o perlomeno diciamo che non lo conosciamo ancora. No, non lo conosciamo. I momenti critici dell'esistenza sono sempre quelli in cui le cose che premono con più forza dentro di noi vengono alla luce. L'altro romanzo era... in realtà era un romanzo molto diverso da questo qui anche come scrittura, come approccio, però era certamente un romanzo anche quello di formazione, era la storia di una bambina, un'adolescente salentina che vive una vita molto difficile in cui incontra molte situazioni violente e che riesce ad elaborare questa violenza che le viene fatta mettendo in atto un meccanismo salvifico che la cultura salentina ha ideato negli anni, un dispositivo di salvezza psicologica per cui dice di essere stata morsa dal ragno, morsa dalla taranta e quindi può ballare e può far venire fuori il suo io profondo e in qualche maniera diventare... che diventa poi un fatto salvifico... ecco, diventare se stessa. E naturalmente la narrazione dell'Attentissima è una storia completamente differente, però in qualche maniera ha a che fare con la ricerca di noi stessi, insomma, ripeto, con ciò che noi siamo veramente e non ciò che il pregiudizio esterno ci vuole far essere. Attentissima fa proprio riferimento all'organo sessuale femminile? Ma, certo, è anche lì, diciamo, è un punto di vista dal quale non bisogna mai abbassare la guardia, anche quello lì, ma naturalmente no, non soltanto a quello lì. Fa riferimento quindi a che cosa anche? All'attenzione, no? All'attenzione al fatto di dover che, che per diventare fino in fondo se stessi bisogna essere attenti, perché se non si attenti si finisce col diventare preda del pregiudizio e che è, credo, la cosa più scomoda e brutta che un essere umano in genere o poi un artista in particolare possa subire. E anche l'altro rischio è quello di, insomma, in qualche modo diventare quello che gli altri vogliono che noi diventiamo. E in questo senso forse il tema trattato in questo romanzo è molto attuale perché stiamo vivendo, non so se sei d'accordo, un'epoca di grande omologazione, profonda poi, non solo, diciamo, estetica, culturale, eccetera. E quindi forse figure come quelle che racconti in questo romanzo ci aiutano a capire che il coraggio, la fatica a diventare se stessi forse vale proprio la pena. Sì, è indispensabile, è indispensabile. E quando prima parlavo di diversità intellettuali proprio di questo parlavo, no? Di essere sempre un po'... di attuare sempre una sorta di brigantaggio intellettuale di cui io parlo, diciamo, nell'altro mio mondo che è quello della musica e delle canzoni. e così questa è un'epoca di omologazione spaventosa. e quindi tutto ciò che noi possiamo mettere in campo per definirci come... non come persone diverse, cioè come persone uguali ma con il proprio pensiero, con la propria individualità, è indispensabile. E certamente il tragitto che compie il personaggio protagonista dell'Attentissima è un tragitto molto difficile, molto duro. È un tragitto fatto di medicina, di psicanalisi, di psichiatria, di farmacologia e di chirurgia sul proprio corpo. Ed è anche un po' il racconto del destino dei nostri corpi, no? Che non sempre il destino dei nostri corpi si compie in piena luce. A volte ci sono delle strade... Noi dobbiamo sempre mostrare che il nostro corpo è in piena luce, mentre invece ci sono dietro la storia penso veramente di ognuno di noi. Ci sono delle strade tortuose che riguardano il nostro corpo. Ognuno poi ha un rapporto particolare, molto intimo, profondo con il proprio corpo che non sempre dimostra agli altri. e mi interessava molto anche fare questo discorso, no? Sulle trasformazioni del corpo, volontarie, involontarie, quelle che ti fanno passare... Tutte le trasformazioni, per esempio, che subiamo tutti quando passiamo, come dicevamo prima, dall'adolescenza all'età adulta, che sono trasformazioni che ci segnano profondamente, ci cambiano. E quindi sì, è indispensabile essere attentissimi. Per me è indispensabile. Per tratteggiare, descrivere un po' il personaggio di Carmen, quale tipo di donna hai fatto un po' riferimento? Anche nell'immaginario letterario. Guarda, veramente ho fatto più riferimento a persone che conosco che non all'immaginario letterario. Siccome stiamo parlando, perché è di quello che stiamo parlando, di una persona che si è trasformata, ha trasformato la propria identità di genere sessuale, posso dire che ho avuto come fonte di... diciamo come campo di osservazione per potermi... per poter sapere bene che cosa dicevo, perché oltre alla parte romanzata c'è una parte tecnica che racconta tutto questo e credo peraltro sia anche la prima volta che in un romanzo venga raccontata una trasformazione... È imprescindibile per rendere credibile una storia del genere, chiaramente. Certo, certo, ma poi mi interessava moltissimo raccontarla. Diciamo che io ho avuto una lunga frequentazione con don Andrea Gallo, che forse voi conoscete, che è stato il sacerdote che ha fondato la comunità di San Benedetto a Genova, al del Porto, dove ha raccolto moltissime persone che avevano delle sofferenze forti, diciamo, legate per esempio alla droga, ma anche moltissimi legati all'identità di genere sessuale, perché poi dovete pensare che è anche una questione molto attuale degli ultimi tempi quella di poter cambiare sesso, no? Ma anni fa questa cosa non poteva essere attuata o comunque, insomma, diciamo, ci sono delle... dei percorsi difficili sul piano sociale e quindi lui ne ha accolti moltissimo, questo poi faceva parte anche, era uno degli argomenti che consolidavano anche l'amicizia di don Gallo con Fabrizio De Andrè, che poi è stato anche un mio amico, quindi, diciamo, ho avuto modo anche di frequentare parecchio queste persone e di vedere là vicino. Poi ho anche il piacere di avere una straordinaria musicista sul palco tutte le serie violinista che è Herr, che suona con me da 15 anni e ho potuto osservare molto da vicino e in grande amicizia anche il suo percorso, il suo tragitto. Quindi, benché il romanzo parli di tutt'altro, ma dal punto di vista tecnico, della narrazione tecnica e pratica di tutto ciò che succede quando un individuo decide di intraprendere questo cammino, ho avuto questi accompagnatori, diciamo. E allora, l'attentissima in Audi lo troviamo in libreria, però lo troveremo anche attraverso dei reading che tu farai, Teresa, con Valerio Corzani in alcune occasioni, come al Salone del Libro di Torino o ai frigorifori milanesi il 27 aprile, poi chissà, forse a Roma ce lo direte quando sarete anche a Roma. Intanto grazie. Grazie a voi. Per esserci tornate a trovare, ci vediamo presto. E buona lettura. Grazie. Grazie.